Facciamo dei bozzetti rapidi per familiarizzarci con le facce. Vabbè, sto andando senza misure. Così, resta qua, resta qua, l'occhio è giusto. Che gran fumettone che sto disegnando. Anche di più, vedi, qua così. Non volendo c'è una gomma pane a portata di mano. Musica 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 La fregatura è sempre che mi manca. La fronte è scelato. E' giusto di più giustamente così e così e qui c'ho una zona Così. Questi capelli come saranno? Ah vedi qui c'è anche una cosa che gira così e fa così quindi qui ci sono dei capelli che fanno che partono in questa maniera e qui d'altro i capelli che partono così vengono giù diretti dalla testa. Adesso finiamo un po' di masse. Ah lei qui c'ha un orecchino che non si... Sono più mete che sono. Ah no è una strana forma. Dunque è un orecchino che è uno strano ovale così che si vede da qui. Fa così e poi sotto c'ha qualcosa che però io non riesco a capire cos'è. Ma è così indispensabile questo orecchino? Boh no. Però vabbè ormai. Alla qui c'ha un altro ciuffo che gli esce fuori e gli va così e così. No. 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 C'è una faccia da fumetto sta ragazza. Continuiamo domani